Gentili telespettatori, buona giornata. Gasparri di Forza Italia dice un qualcosa che io vi ho già detto. Parlo con un elettore del PD e mi dice Luca, guarda che quello che tu dici su Ellis Line non è che ce lo stai spiegando, noi vediamo perfettamente che tipo di politico è, che persona è, i tuoi video sono solo una conferma a quello che tutti pensano nel partito democratico, che è poi quello che lei non capisce, cioè la Schlein non sa di essere così, perché non è una finzione, lei è proprio così, e quindi non può lei dire sì, sono fatta così, perché lei è fatta così. Non so se mi sono spiegato, è un po' difficile. Quindi Schlein non sa di essere Schlein, cioè non sa realmente gli altri come la vedono, cioè lei crede di essere un grande capo politico, una riformatrice che porta la novità, che viene contrastata dal vecchio, lei è il nuovo che avanza, contrastata dal vecchio, ma attenzione, la realtà è che lei si crede in un certo modo, ma la realtà, quello che vedono tutti, destra e sinistra, è tutt'altro. Voi mi direte, beh, ma allora com'è fatto a diventare capo del PD? E quella è una bella domanda, quella è proprio una bella domanda. Ma quella è una domanda che ti puoi fare su tanti altri politici, e dire, ma quello cosa ci fa lì? Ma com'è finito in Parlamento? Vi ricordo che in Parlamento abbiamo condannati, c'è gente che ha rubato in Parlamento, c'è gente condannata un anno e mezzo, un anno e sette mesi per aver rubato agli italiani i rimborsi spesa, con i rimborsi spesa, quindi c'è gente che è stata condannata da un tribunale per peculato, peculato vuol dire che hanno rubato, solo che più elegantemente si chiama peculato. Quando rubi allo Stato, con i rimborsi spese, cioè chiedi dei soldi e te li fai dare, ma non dovevano darteli, lo chiamano peculato, ma vuol dire che hai rubato allo Stato. C'è gente che ha rubato allo Stato che è lì onorevole, ma quale onore? C'è gente che non ha pagato i dipendenti, c'è gente che ha debiti con lo Stato, c'è gente dove la famiglia ha rubato di tutto di più, ci sono pregiudicati, condannati, inquisiti, il Parlamento è un ricettacolo delle peggiori persone che potete incontrare in giro, lì dentro c'è un'altissima percentuale di condannati, pregiudicati, inquisiti, a processo, gente che ha rubato, gente che non ha fatto. Ecco, pertanto, adesso non so perché vi stavo raccontando questo, mi sono perso, ma torniamo a Gasparri che dice un qualcosa che io vi stavo dicendo prima, che vi dico da tempo, qual è? Che, tornando a Schlein, non solo nel centro-destra hanno visto com'è, ma anche nel centro-sinistra sanno perfettamente com'è, e si mettono le mani nei capelli, quindi quelli che parlano peggio della Schlein sono proprio quelli di sinistra, quelli comunque intelligenti, quelli che ragionano, perché poi ci sono i classici tifosi che ti dicono la Schlein ha detto una cosa intelligentissima, ecco, non potete mettere insieme ha detto una cosa intelligentissima col nome Schlein, questo non potete farlo, perché non funziona, ci sarebbero delle scintille. Ecco, poi ci sono i tifosi che ti dicono che la Schlein dice delle cose geniali, delle cose incredibili, ma la realtà, quello che vede il 90% delle persone, è che è completamente inadeguata. E Gasparri dice proprio questo, io, se io dovessi dirvi, riferirvi, quello che mi dicono i senatori del PD su Elie Schlein, io in confronto passerei per un sostenitore della Schlein. in effetti, questa è la realtà, Gasparri critica la Schlein, ma la critica con delle parole corrette, dove rimangono una critica, mentre quello che lui sente in Senato, e quello che io sento parlando con persone del PD, non sono delle critiche ponderate con delle parole giuste, la gente ci va giù pesante, e non dice in maniera corretta una critica, come la dico io, Gasparri, i senatori del PD, dice Gasparri, se li senti parlare sulla Schlein, altro che, poi non verresti a dire a me, verresti a dire che sono quasi un sostenitore della Schlein, per come parlo della Schlein, questo vi fa capire la reputazione che ha questo politico in Italia, e nello stesso Parlamento, e nel suo stesso partito. Dice, fossi lei mi programmerei un futuro, anche questo farfugliante furfaro, fossi lui mi preoccuperei per il loro futuro, se qualcuno se lo accolla, il ministro Musumeci ha annunciato che dopo i primi 5 milioni per la Toscana, chi fa un'altra domanda, nei prossimi giorni arriverà quasi un miliardo, non solo oggi il vicepremier Tajani sarà a Prato per incontrare le istituzioni, i rappresentanti delle aziende danneggiate dall'alluvione, per parlare proprio di fatti. Ma Furfaro, detto Furfi, nel suo attacco ha detto che lei fece ridere il paese in tutto il mondo, perché portò in Senato un documento di negazionisti sul clima. E lui risponde, parlano di cambiamenti climatici, ma per parlarne non li affrontano, ma poi la Toscana ha regione modello, l'Emilia Romagna ha regione perfetta, e allora perché succedono queste cose? Poi per carità succedono anche da altre parti, ma come mai succedono queste cose se le due regioni sono dei modelli di perfezione come ce li raccontano? Allora, ci sono due cose e non bisogna essere scambiati per negazionisti o per altro. Allora, il cambiamento climatico c'è, esiste. Questi non sono i soliti cambiamenti climatici che ci sono stati nei secoli, no? E miniere glaciali o miniere dove c'è un caldo tremendo, beh, no, dove si alza la temperatura. Quindi qui non stiamo parlando, qui non siamo in una delle curve che ci sono sempre state. Qui è una qualcosa di diverso. Qui c'è proprio una modificazione del clima per quello che ha combinato l'uomo sul pianeta. Poi, oltre a il cambiamento climatico, che è in atto, c'è anche poi l'inerzia dell'uomo che al posto che fare le opere per la prevenzione di questi fenomeni non fa altro. Perché, come dicono in tanti esperti di questo settore, non porta voti. Cioè, pulire gli argini del fiume oppure fare dei bacini di contenimento per l'acqua andando a disturbare gli ecologisti di sinistra, non porta voti. Anzi, te li fa perdere. Perché se tu vai a ripulire i fiumi non se ne accorge nessuno. E quindi non porta voti. Quindi spendi soldi dove non ti arrivano voti. E poi, se vai a fare un bacino di due chilometri per due chilometri, ti trovi contro i proprietari delle terre, ti trovi contro quelli della zona. e allora non porta soldi, non porta elettori. Avete capito? Grazie a tutti. E arrivederci a presto.